Musica E' ancora più importante la notizia perché per la prima volta in Italia usciranno i laureati in coreografia. Questo non era mai successo e tantomeno non era mai successo in una sede decentrata perché l'Accademia Nazionale di Danza è parte integrante del sistema dell'alta formazione artistica e la parola stessa lo dice è unica in Italia. E' la prima volta grazie a questa sintonia e sinergia con il Teatro Gesualdo di Avellino che si è aperto un corso di laurea qui con una serie di interazioni con Roma come vedremo anche stamattina e credo che sia importantissimo che per la prima volta ci siano i laureati in coreografia. Quindi oltre classica, oltre contemporanea c'è anche la laurea in coreografia. Noi gli allievi sono pochi perché questi sono corsi di lezione quindi parliamo sempre di una ventina di allievi e parliamo sempre di numeri piccoli perché noi formiamo degli artisti che poi saranno e sono sempre importanti sulla scena non solo nazionale ma internazionale perché è dall'Accademia di Danza che escono le eccellenze della danza italiana nel mondo. Io sono giovane dal punto di vista come commissario dell'Accademia Nazionale di Danza che è un'istituzione prestigiosa, sono sicura che ha avuto successo ma ancora più ne avrà perché credo che questa sintonia con il Teatro Gesualdo, questi accordi potranno nascere ulteriormente e puntare sulla produzione, puntare sui luoghi di produzione, puntare sui luoghi giovani che fanno una politica aperta e che la formazione sia strettamente connessa alla produzione questa è un po' la chiave di volta per la formazione italiana nel campo delle arti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!